Da stasera su Rai 1 la fiction caccia a re e la narcotici, ce ne parla Paolo Sommaruga. La cronaca come filo conduttore e la droga come un veleno che entra con facilità nelle vite dei ragazzi. Gran ritmo narrativo, impegno, azione e disagio giovanile in caccia a re e la narcotici, prima puntata stasera su Rai 1. Ho cercato di essere più realista possibile per raccontare un po' il mondo di oggi che ci appartiene in modo non edulcorato. Una squadra di poliziotti impegnati a dare la caccia a spietati i trafficanti di droga, il capo Stefano Dionisi, lo chiamano l'ottavo re di Roma. Vieni, andiamo. È un vero cattivo, è un personaggio negativo al massimo, tutti quelli che noi non vorremmo essere. Alla guida della squadra narcotici l'attore tedesco Gideon Burkhardt è già protagonista di una serie molto popolare nel nostro paese. Mi sono divertito molto a girare il commissario Rex e ho ricevuto montagne di posta dai fan italiani. Ovviamente so che il successo era tutto per il cane.